Si è da poco conclusa l'operazione Mare Sicuro 2021, la campagna annuale volta a incrementare nel periodo estivo le attività di vigilanza e controllo lungo le coste e nelle scorse ore alla capitina di Porto di Pozzallo il comandante Zito ha illustrato i risultati di una stagione estiva estremamente impegnativa per tutto il personale della Guardia Costiera e vissuta all'insegna della sicurezza sia in mare che nelle spiagge. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato che nell'anno in corso è stato registrato un significativo incremento del turismo di prossimità con un conseguenziale incremento di bagnanti e in mare di unità di Porto. All'incremento delle presenze i militari della Capitaneria di Porto hanno risposto con un importante incremento dei controlli in un'intensa attività quotidiana che ha visto uomini e donne operare con passione e dedizione ogni giorno in mare a bordo delle 5 unità navali e lungo la costa nei 100 km di litorale della provincia ragusana garantendo così una cornice di sicurezza alle migliaia di persone che si sono riversate sulle spiagge e il mare. La presenza dei militari nella veste di supervisori presenti e attenti ha permesso così a frittori del mare e delle spiagge di trascorrere un'estate in assoluta tranquillità e serenità. I numeri indicano risultati straordinari con oltre 7.000 controlli triplicati rispetto ai numeri registrati lo scorso anno. 25 persone soccorse tra diportisti e bagnanti di cui 10 salvati in condizioni limite. Numerosi soccorsi anche ad unità da diporto che hanno richiesto l'intervento della guardia costiera per improvvise avarie al motore o un peggioramento delle condizioni meteomarine. Un'estate che ha visto rispetto alla stagione 2020 a fronte di un aumento dei controlli effettuati sul territorio una diminuzione delle infrazioni e degli illeciti e questo dato è frutto anche di un'attività di sensibilizzazione sul modo corretto di vivere il mare che è stata avviata già nel mese di maggio con incontri con altri protagonisti della stagione balneare quali i comuni e gli operatori balneari soggetti che hanno avuto il compito di contribuire a rendere la stagione più sicura e serena per i bagnanti. L'attività di prevenzione alla fine ha dato i suoi effetti anche in mare con meno incidenti ed un trend positivo che è sinonimo sicuramente di più attenzione, ha dichiarato il comandante Zito. La presenza quotidiana delle nostre unità navali ha poi avuto anche l'effetto immediato di evitare che gli illeciti venissero compiuti ma voglio evidenziare che il numero minore di infrazioni è anche frutto di una maggiore consapevolezza da parte dei riportisti della necessità di rispettare le norme di sicurezza dettate dall'ordinanza di sicurezza balneare da noi emanata a inizio stagione. I numeri che invece ci restituiscono la gratificazione maggiore sono quelli riguardanti le persone soccorse il mare. Voglio ricordare quale attività di particolare rilievo l'intervento in data del 26 agosto della nostra motovedetta CP325 che a seguito del ribaltamento di un catamarano è intervenuta prontamente sul luogo della segnalazione e ha tratto in salvo i due riportisti che viaggiavano a bordo del natante evitando così peggiori conseguenze per le condizioni meteomarine avverse presenti in zona al momento dell'incidente.